Dio è padre dei peccatori. Questa immagine di Dio come padre dei peccatori ai farisei proprio non va giù. Fa venire il capogiro, gli fa venire il sangue agli occhi. Ma come? Ma come? Se Dio è giusto, come fa lui a dare la precedenza proprio ai peccatori, a quelli che non rispettano la legge del nostro santo padre Mosè? Ma che cosa si è messo in testa questo Gesù di Nazareth? Se questa immagine di Gesù, che Gesù annuncia di Dio, viene così respinta rabbiosamente dai farisei, eppure è proprio l'immagine che Gesù presenta. Gesù davvero si mette a picconare in tutti i modi contro questa immagine idolatrica che invece i farisei vorrebbero difendere con le unghie e con i denti? È perché Gesù, sì, sa com'è fatto Dio. È come se Gesù dicesse, disgraziati, ma se uno di voi ha un figlio disabile, è chiaro che ama tutti, ma dà la precedenza proprio a chi invece rischia di essere scartato, dà la precedenza a chi ha più bisogno di cura e di affetto. Voi non fate così? Ed Dio farebbe il contrario? No. Allora ci riprovo ancora una volta Gesù, presentando questa parabola in modo molto schematico. Si tratta di due tipi. Uno è il fariseo, che è impettito, già questa postura dice tanto, lui è vicino proprio all'altare dei sacrifici e si mette a pregare in quel modo davvero ripugnante. Oh Dio! Sembra che si rivolga a Dio, ma subito si ripiega su se stesso. Io ti ringrazio. Io non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri. Io digiuno due volte alla settimana. Io pago le decime di tutto quello che possiedo. È davvero un uomo incapsulato nella bolla del proprio io e quindi non comunica con Dio, non permette a Dio di aprirsi a lui, perché è lui che mette il catenaccio e butta fuori Dio dalla casa del proprio cuore. E invece Gesù ci vuole aiutare con questa parabola a scendere nel pozzo segreto della nostra coscienza, a specchiarci in questi due tipi, non per farci venire sensi di colpa, ma per riconoscere che in fondo il nostro rischio qual è? È quello di voler fare i pubblicani continuando però a fare sotto sotto i farisei. Perché il pubblicano, a differenza del fariseo, come prega? Innanzitutto anche qui è interessante la postura. Fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto, quindi non si esibisce in quella preghiera autocentrata che non è all'altezza di una vera preghiera. E diceva, oh Dio, comincia come ha cominciato il fariseo, ma mentre il fariseo si serviva della sua immagine di Dio per paragonarsi e quindi per mettersi la coscienza posto nel confronto con il pubblicano, il pubblicano dice semplicemente, oh Dio, abbi pietà di me, peccatore. Bellissima questa preghiera. Lui davvero apre il suo cuore a Dio, si riconosce per quello che è, non si autocostringe a specchiarsi nella figura del peccatore, perché lo è e lo sa, è un ladro matricolato e però non ne può più di stare lì solo a contare soldi su soldi, a far piangere le vedove, la povera gente e ha deciso di smetterla. Oh Dio, abbi pietà di me, peccatore. Sì, fratelli e sorelle, Dio non si merita, Dio si accoglie. Dio è il Dio dei disgraziati, della povera gente, di quelli che riconoscono di essere bisognosi e disgraziati. E allora può essere davvero il nostro Dio, il nostro Padre. Padre, permettetemi di ripeterlo ancora una volta, per Dio non è un sostantivo, un nome comune, come è padre Matteo o Luca o Paolo, Giovanni. No, Dio è padre papà, padre è non un nome comune che noi attribuiamo a Dio, ma è il nome proprio. Certo, poi noi diciamo subito onnipotente, onnisciente, onnipresente, eterno, eccetera, ma prima di tutta questa sfilza di aggettivi, noi diciamo che è padre, ma è un padre materno che non ce la fa a vedere che i suoi figli, i suoi figli più cari, perché più bisognosi, vengano scartati. Restiamo un minuto di orologio in silenzio per entrare nel nostro cuore e per far salire dal fondo del nostro cuore questa che è la preghiera più bella, perché più vera, la preghiera più umile, più sincera. O Dio, abbi pietà di me, peccatore.